La notte bianca è stata un disastro. Il percorso è stato cambiato senza avvisarci, non siamo stati invitati alla presentazione e non abbiamo potuto tenere la gincana per i bambini per mancate autorizzazioni. La responsabile, la delegata Tommasini, è stata sempre assente e non ci ha risposto mai al telefono. L'amministrazione si è comportata molto male, conclude Petito. Mattia Cammoni si è laureato ieri pomeriggio campione italiano di classi olimpiche. L'atleta della LNI sale quindi sul gradino più alto del podio nazionale di Windsurf. Secondo, quarto ed ottavo posto per Pochiero, Benedetti e Guzzone. Il Santa Marinella Calcio ingaggia Ferri Marini. L'attaccante classe 1989 arriva alla corte di Dominici per fare manforte a Flavio Gagliardini, infortunatosi prima dell'esordio del campionato. Ferri Marini nelle ultime stagioni aveva militato nella prima categoria toscana. Si sono conclusi sui campi della Wisp Tennis e dell'Asdo 88 i master finali delle categorie amatoriali. Ottima affluenza di pubblico a presenziare alla finale di master amatoriale però tra il romano Giorgio Terracini e Andrea Rosci. Ad avere la meglio è stato il giocatore della Capitale. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.